Buona domenica a tutti amici interisti e non interisti, domenica insomma un po' mara per la partita di ieri, lo stadium è ancora maledetto per noi interisti, un 3-2 che per la classifica non conta niente ma purtroppo fa male per il morale di noi tifosi, un capò brutto tra ombre e veleni, prestazione dell'arbitro sotto la lente di ingrandimento ma soprattutto un approccio della nostra Inter secondo me davvero molto ma molto discutibile per quello che si è visto in campo soprattutto per il primo tempo. Nella copertina vedete l'episodio decisivo per il risultato, l'intervento di Quadrado su Perisic, sanzionato con il calcio di rigore, qui si vede chiaramente che è Quadrado che cerca Perisic, però ripeto la prestazione anche della terra arbitrale è stata abbastanza opaca per usare un termine non troppo aggressivo, è anche vero che l'Inter è sceso in campo in ciabatte, si è propinquata questa gara con un atteggiamento non troppo determinato, la grigliata di ieri, la cena di Lukaku, tutte cose che comunque per carità a fine campionato si possono anche tollerare, il fatto che però secondo me nel primo tempo l'Inter non è sceso in campo, il primo tempo che ha visto la Juventus comunque controllare il gioco, seppur con poche occasioni anche se alcune sono state abbastanza clamorose come al quinto minuto il tiro di Kulusevski che Skriniar praticamente salva pochi passi dalla linea, quello era un gol fatto, oppure un altro intervento di De Vrij sullo stesso Kulusevski, ha fatto più tiro in porta, l'Inter si è vista solamente nell'occasione del rigore di Lautaro. Secondo tempo cambia la partita con l'espulsione di Bentancur, espulsione che per carità a regolamento ci sta, anche se andiamo a vedere la conduzione di gara dell'arbitro Calvarese, quelle due ammunizioni sembrano abbastanza più severe rispetto ad altre ammunizioni che non ha dato, ad esempio per le proteste di Chiellini, faccio un esempio abbastanza eclatante. E comunque in 10 contro 11 per più di 30 minuti, ecco io mi sarei aspettato il pareggio che è arrivato, ma sicuramente una partita più gagliarda dell'Inter. E poi arriviamo all'ottantasettesimo, al culmine di, ripeto, di una direzione di gara tutt'altro che trascendentale, questa chiamata discutibile che sinceramente io in presa diretta pensavo fosse rigore, sono anche pure detto Perisic come se è stato ingenuo, in realtà poi vediamo dalle immagini che purtroppo il rigore non esiste, e l'arbitro per carità potrebbe anche essere stato preso in inganno, perché in presa diretta poteva sembrare, ecco è sembrato anche a me, ma a quel punto perché non si è andato a vederlo al VAR? E comunque 3-2, risultato finale, lo stadion rimane ancora maledetto per l'Inter che non ci vince in campionato dal 2012, andiamo a vedere un attimino la partita raggi X per fare un minimo di analisi tecnica con qualche statistica, qualche dato alla mano. Vedete che i tiri totali, vero o male, la Juventus ha tirato più in porta dell'Inter, specialmente nel primo tempo, poi nel secondo tempo l'Inter ha praticamente dal 57esimo in poi ha preso in mano la partita, anche se non ha mai forzato tanto per cercare il pareggio. Sì ha chiuso la Juve nella propria area, però di occasioni non ce ne sono state tantissime secondo me, ce ne sono state per carità perché anche Barella per esempio ha tirato a lato da buona posizione, Lautaro ha segnato in rovesciata dopo che il gioco era stato fermato per un fallo discutibile, Lukaku, Piellini, mentre Lautaro era in volo, poi per colpire la palla in semigirata e metterla nell'angolino. Ci sono state ottime occasioni anche con il colpo di testa di Vessino che è entrato bene, però ripeto, mi sarei aspettato di più dall'Inter, proprio in termini di determinazione in questa partita, specie nel primo tempo. Possesso a palla dice veramente poco, l'Inter ha avuto sì il 60%, ma credo che questo dato sia influenzato più che altro dal secondo tempo in cui la Juventus si è poi chiusa in difesa togliendo Cristiano Ronaldo e Chiesa e mettendo un difensore, De Miral e un contropiedista come Morata al settantesimo. Palli commessi anche qui è un dato che fa un po' specie perché è stata una partita cattiva. La Juventus la poteva mettere sui nervi, lo avevamo anche discusso tra amici, ha dei problemi di gioco la Juve perché veniva da partite in cui obiettivamente aveva giocato veramente male. E quindi la partita è stata messa sul piano nervoso, molto spezzettata, con fiammate da una parte e dall'altra, nel primo tempo soprattutto la Juventus, nel secondo tempo con la superiorità numerica l'Inter, tre ammunizioni, una espulsione per parte, quella di Ventancourt che abbiamo detto per doppia ammunizione, poi quella di Brozovic sul finire di gara e poi ovviamente i tre rigori. I tre rigori che sono tanti per una partita di questo tipo. Il primo rigore secondo me con i nuovi regolamenti lo fischiano, lo fischiano perché purtroppo Darmian mette una mano sopra la spalla di Chiellini da dietro, di contatti così però ce ne sono tanti nella di rigore, Chiellini è molto scaltro e si butta per terra, diciamo che tu fuori Chiellini è eclatante ma il contatto prima c'è, ripeto io di rigori così non ne darei mai perché ci sono tanti interventi di questo tipo, però è vero che la palla stava arrivando lì, per cui dare quel rigore non è scandaloso. Il rigore su Lautaro pure, nel senso che è netto l'intervento di De Ligt sul tallone di Lautaro, però è anche vero che Lautaro è lontano dalla disposizione della palla, per cui un'ingenuità clamorosa di De Ligt. Ripeto, sono rigori che quello di Lautaro è netto, quello di Chiellini un po' meno ma probabilmente qualche anno fa senza Alvar non avrebbero dato. C'è da dire che mentre il rigore di Chiellini l'arbitro lo vede subito, su quello di Lautaro viene richiamato Alvar. E poi vabbè c'è l'ultimo rigore di cui abbiamo discusso prima, che sinceramente in presa diretta sembrava rigore, almeno io ho avuto questa impressione poi rivedendolo. È il quadrallo che mette la gamba destra in mezzo alle gambe di Pedisic. Sinceramente io non capisco, si può sbagliare, però fa strano che all'ottantasettesimo, dopo che la Juve si era ritornata ad affacciare nell'era dell'Inter, l'unica occasione dopo l'espulsione, esce fuori questo rigore che è quantomeno discutibile. Almeno avrebbe potuto Calvarese andare a vederlo al VAR, come ha detto lo stesso Andanovic. Tant'è che una partita che si stava svolgendo nella parte conclusiva verso il pareggio ha un altro epilogo, con poi la realizzazione di Juan Quadrado, che ieri avevamo detto essere molto pericoloso, avevamo ricordato anche i due gol che aveva fatto il Juve Inter 1-0 nel 2016-2017, poi quella partita 3-2 pazza, che costò al Napoli soprattutto, con un pareggio di Quadrado e gol di Guaine. Occhio al Napoli che oggi e tra poco andrà a Firenze a giocarsi una partita importantissima. Vediamo un attimino le pagelle. Per la Juventus Quadrado è in assoluto per me il migliore in campo. Vediamo le pagelle dell'Inter. Pagelle dell'Inter, io sono stato forse troppo severo, vi chiedo di iscrivermi nei commenti se siete d'accordo con me oppure se la pensate in maniera diversa. Andanovi 5.5, 5.5 perché il rigore l'ha parato, è stato bravo anche se è stato un rigore centrale, ma poi sul tiro di Quadrado, deviazione non deviazione, è andato giù subito. Quello secondo me non è una papera, ma purtroppo Samir è in parabola discendente, l'abbiamo già letto nelle pagelle. Bisogna intervenire al più presto perché il tiro era abbastanza centrale. Era nella zona di Porto dove era lui a presidiare, per cui l'ha visto anche partire secondo me. Io non posso dargli la sufficienza benché abbia parato un rigore, seppur centrale, a Cristiano Ronaldo. Screener 6, perché se fu nella prima parte ha salvato un gol sul tiro di Kulusevski a quinto, molto bravo. Poi nel secondo tempo si è visto poco in fase di spinta. Io avrei previsto spingersse di più sul 2-1, ma non si può dire che Screener non abbia fatto una partita sufficiente, soprattutto nel primo tempo, anzi avrebbe meritato un 6.5. De Vrij la stessa cosa, è stato più continuo secondo me lungo la partita, anche in impostazione. Ha salvato un tiro di Kulusevski pericoloso, non quanto quello di Screener, ma sempre nel primo tempo, e ha dato sicurezza alla retroguardia. Mentre a De Sandro Bastoni da un 5.5, un po' troppo nervosetto, ha preso un'ammunizione secondo me evitabile, non si è visto con la sconsolietà tecnica in appoggio ai centrocampisti, anche agli scarichi del centrocampo, un attimo per cambiare anche gioco. è stato abbastanza poco preciso e lucido, secondo me, anche nei movimenti. Di sotto lui è molto bravo a muoversi tra le linee tra difesa e centrocampo. Oggi l'ho visto un po' opaco. E poi passiamo al centrocampo. Il centrocampo doveva essere la chiave di volta, visto che la Juve nei due mediani non ha il punto debole, a mio avviso, Bentancur e Rabiot, però a centrocampo abbiamo fatto molta fatica. Allora, Kimi è un 6-0 a Chiato. 6-0 a Chiato soprattutto per la fase difensiva, dove è andato bene, perché né Chiesa e né Alexandra hanno mai combinato granché dalla sua parte. Chiesa ha fatto solamente un tiro nel primo tempo, verso la mezz'ora che è stato deviato, poi si è visto veramente poco. E ricordiamoci invece come aveva giocato all'andata, dove secondo me della Juve, pur nella sconfitta era stato il migliore, però in fase offensiva, Kimi deve migliorare. Queste partite devi usare di più, non devi sbagliare le scelte, come abbiamo detto. Vi faccio un esempio. Verso il trentesimo minuto del primo tempo, c'è un break dell'Inter, 2-3 a Chiato parte, ha tutto il campo davanti, lo stanno recuperando in due, c'è Barella dalla parte opposta che corre. A Chiato intergiversa, non rischia il passaggio lungo tutto campo per Barella e lì poi viene rimontato. Questo è un esempio che in queste circostanze deve essere più lucido e magari rischiare la giocata, però ripeto, in fase difensiva non ha fatto bene, comunque è sempre stato presente sulla fascia. per diventare comunque più decisivo in questo tipo di partite, secondo me davanti nella fase offensiva, deve fare di più. Barella 6. Barella 6 perché è il solito motorino a centrocampo, molto nervoso anche lui, però combatte sempre presente. ha avuto bene o male dal 70 al 75esimo un tiro sul secondo palo che era libero in aria, nel vertice destro dell'area della Juve e lì l'ha strozzato un po' troppo. Ecco, lì è stato impreciso, ma corre sempre per tre e secondo me la sufficienza se la merita. Brozovic 5,5, partita anche la sua di quantità, ha fatto due ottimi recuperi nel secondo tempo che mi sono piaciuti, passaggi orizzontali più che verticali in questa partita e poi alla fine l'espulsione che macchia un po' di mezzo punto la sua prova. Secondo me Brozovic ha questo difetto di personalità e molto spesso quando è nervoso anche il suo rendimento negli ultimi minuti era calato. Secondo me è un limite che ha Brozovic. 5,5 credo che sia un punteggio, un voto che tutto sommato ci sta per la sua prova. Invece secondo me la nota peggiore del centrocampo dell'Inter oggi è stata Christian Eriksson. Christian Eriksson perché al primo tempo si è visto veramente poco. Si è visto veramente poco, nella ripresa ha fatto giusto un paio di verticalizzazioni neanche troppo pericolose e la punizione è calciata in bocca a Scesni. Per il resto poca roba. Con davanti Bentancur e Rabiot, secondo me avrebbe potuto fare molto di più. Darmian 5 perché causa il rigore su Chiellini e della sua parte si soffre veramente tanto. Quadrado è un brutto cliente. Viene sostituito da Peridic che anche lui sinceramente combina poco ha dalla sua quell'intervento sfortunato che tra l'altro non era calcio di rigore ma anche in attacco ha fatto giù solamente una palla e mezzo pericolosa per Vessino qui ho dato 6 ma poco altro. Diciamo che con Quadrado è sempre una bella lotta Perisic e Quadrado. Diciamo che questa volta era spuntata il colombiano ma in passato Perisic era stato superiore in certe partite. Scesni 5 e mezzo perché qualcosina ha fatto ma ha acceso poco la luce e la copia d'attacco lo calcola Autaro hanno due voti ho dato due voti che sembrano molto vicini in realtà per me Autaro è stato il migliore in campo dell'Inter gli do 6 e mezzo perché è sempre presente nel metà campo della Juve ha causato il primo rigore ha fatto un bellissimo gol in semigirata che è stato annullato quando c'è stato il fischio in volo dello stesso Lautaro per un contatto presunto Lukaku Chiellini è un giocatore che ha tantissimi colpi in queste partite a personalità all'inizio del secondo tempo tira a giro di destro alto di poco si propone sempre va sempre a pressare ha quella gara quella grinta di affrontare anche gente come Chiellini che comunque queste partite ha quella malizia che spesso induce anche l'arbitro e gli errori secondo me ha giocato meglio di Lukaku Lukaku gli do 6 per due motivi primo perché ha segnato il rigore sono 12 su 12 e poi comunque anche nell'azione del 2-0 lo Zampino ce l'ha messo perché ha disturbato Chiellini nell'intervento poi in realtà è l'autogol di Chiellini sostanzialmente ma Lukaku era lì senza fare fallo è riuscito a metterci lo Zampino anche in questo gol e del resto quando viene preso alto spalla la porta diventa un giocatore normale ricordiamoci che Chiellini potrà essere antipatico gioca al limite della correttezza e anche condiziona anche gli arbitri con la sua personalità e la sua esperienza però l'ha marcato l'ha marcato bene secondo me e quindi in questa partita Lukaku deve migliorare mi ricordo un po' anche la partita di Coppa Italia finita 0-0 lì spalla la porta preso alto deve cercare di trovare qualche soluzione in più perché altrimenti diventa prevedibile può solo servire ad appoggio per i compagni ma non diventa pericoloso come invece quando viene lanciato in campo aperto ed è devastante Conte Conte 5,5 5,5 perché secondo me l'Inter al di là degli episodi arbitrali che ripeto abbiamo detto la direzione di gara di Calvarese non mi piace parlare dell'arbitro però è stata è stata disastrosa molte volte corretta dal VAR con l'episodio l'87 che comunque ha deciso la partita però però l'arbitro è una causa di questa sconfitta ma bisogna anche dire e ammettere a se stessi all'Inter che un approccio così in una partita importante ma non tanto per la classifica quanto per l'onore per il prestigio di tornare a vincere lo stadio non la si può approcciare in questo modo entrare così molli in primo tempo e quindi ad Antonio Conte da un 5,5 un 5,5 che secondo me è anche forse generoso e ha la squadra da un 5,5 perché anche nel secondo tempo sul 2-1 non ho visto quella reazione di vehemenza per cercare di pareggiarla subito quindi una domenica mare adesso vediamo Napoli cosa fa a Firenze e soprattutto il Milan in casa col Cagliari questa sera la Juve come abbiamo detto ieri ha avuto la reazione d'orgoglio può tornare in corsa per la Champions e vediamo se di Riffo o di Raffa riuscirà a entrarci oppure no vi saluto buona domenica da Zorro ciao ragazzi